Oggi ragazzi siamo ancora qui, c'è di tutto qui, sono venuti da tutto il mondo a proporre le loro invenzioni, le loro proposizioni, da tennisti, calciatori, spacciatori d'anatre, da tutto il mondo, però io sono venuto qui per proporre di rimettere in commercio, aiutatemi, il cinaro, perché il cinaro, ve lo ricordate, con quel gusto di carciofo così leggero che si scioglieva in bocca, appena mangiato proprio quella sensazione di piacere, di sollievo, che bei tempi, riprovatelo, fatevi anche voi un cinaro, perché un cinaro per te, un cinaro per tutti.